Messaggio della Santissima Vergine Maria alla sua amata figlia Luzio de Maria, 11 dicembre 2019 Figli del mio cuore immacolato, nel mio manto c'è impresso quello che succederà all'umanità. Mi prestai come regina del cielo ad un umile indigeno che non tenne per sé quello che i suoi occhi avevano visto, come i semplici gli uomini, come coloro che credono senza vedere, come quelli che obbediscono avendo parlato loro una sola volta, allo stesso modo agì il mio amato figlio, San Due San Juan Diego, e nell'umiltà che io mi paleso, nell'umiltà di insistere per obbedienza di chi non si trattiene dal compiere le mie richieste, che non sono altro che la volontà divina alla quale vi chiamo. Mio figlio chiede umiltà all'uomo, e l'uomo risponde con superbia, e questo è il vero amore in mio figlio. Per mancanza di umiltà l'uomo si è sellovato contro mio figlio, e lo disprezza. Devo ricordare a coloro che disprezzano mio figlio, che si sono addentrati sulla via traviata del demonio, che sono stati ingannati dal male, e che il male si insedia in coloro che lo accolgono. Figli, è necessario che aprite gli occhi spirituali, senza indugio, e che revocchiate l'adesione che avete fatto di marciare al fianco del demonio. Pentitevi di cuore, e fate fermo proposito di non tornare a scagliarvi contro mio figlio Gesù Cristo, di non bestemmiarlo, di non commettere risie e profanazioni, di non uccidere gli innocenti, appoggiando l'aborto, di non fare parte di quelli che accolgono quanto va contro la legge naturale. Il pentimento dei miei figli è urgente, è urgente una presa di coscienza, è urgente che la chiesa di mio figlio continui ad elevare il popolo di mio figlio, è urgente che la chiesa di mio figlio apra le porte delle chiese e chiami a raccolta i suoi fedeli, cosicché, assieme ai miei figli prediletti e in obbedienza, ce librerò un'ora di adorazione eucaristica quotidiana per ottenere che l'essere umano non resista all'amore divino. Dovete comprendere che il demonio non è un'allegoria, esiste e si dispera per penetrare nei cuori dei miei figli e per preparare in questo modo l'appoggio degli uomini all'anticristo mediante azioni denigratorie. Figli miei, in questo giorno in cui celebrate la mia devozione come Madonna di Guadalupe, vi sollecito a fare un regalo a mio figlio, siate unite ai nostri cuori sacri, amatevi gli uni e gli altri, perdonate di cuore, siate amore per poter offrire riparazione a mio figlio per quelli che non riparano. La guerra c'è già sulla terra, sta avanzando poco a poco, le nazioni sono in guerra, ma voi figli non lo vedete, non ve ne accorgete e quando la guerra si scatenerà sull'umanità patirete la crudeltà che l'uomo ha raggiunto. Dovete aiutarvi a vicenda, dovrete soccorrervi a vicenda e come madre desidero che mi offriate quell'amore puro che c'è in ciascuno dei miei. L'avvertimento è vicino e voi non state obbedendo ai miei pelli. L'avvertimento sarà il momento in cui la vostra stessa coscienza vi porterà a vedere le vostre miserie e le vostre benedizioni. Non siate stolti e non siate duri con voi stessi. Non siate stolti, non perdetevi nelle cose mondane, né andando dietro alle insidie di Satana. Pentitevi prima che giunga questo istante e che è stato annunciato in molti modi. Non è un evento di poca importanza, figli. Pentitevi, riparate, pregate. Consacratevi ai nostri sacri cuori e siate carità nel nome di mio figlio. Guardate a me, quale imperatrice dell'America, e ditemi in quale stato è il cuore di questa madre che vede la condizione dei paesi, la loro decadenza spirituale, gli oltraggi ai quali i miei figli vengono sottoposti e come i miei figli si stanno scagliando gli uni contro gli altri, mentre li prende la follia e li fa agire in modo irriconoscibile. In questa data, in cui festeggiate la mia apparizione, offritemi l'amore vero, non un altro, che non è quello di mio figlio. Non temete, io vi sto guidando verso mio figlio, non temete, io do il mio amore e il mio ausilio a tutti. Non siete soli, non siete soli e rimanete in attesa del mio amato angelo della pace. La mia benedizione sia su tutti i miei figli, che amo nella volontà divina. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato.